Un'esecuzione in piena regola. Vittima è il 35enne Pasquale Barbaro, membro di spicco dell'omonima Cosca, sorpreso da una pioggia di piombo mentre usciva dalla casa di uno dei suoi gregari. Un omicidio di Indrangheta avvenuto dall'altra parte del mondo in un soborgo di Sydney, messo in atto da killer incappucciati che si sono allontanati subito dopo aver sparato. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'ambito di una guerra tra bande per la supremazia sul mercato degli stupefacenti nella sconfinata piazza australiana. In particolare il giorno dopo il delitto si sarebbe celebrato un'udienza del processo nella quale era previsto l'esame di alcune conversazioni tra il boss di origine calabresi e il capo di una sanguinaria banda libanese, i Brothers for Life. Pasquale Barbaro, libero e soccauzione in attesa di giudizio della corte distrettuale di Sydney perché coinvolto in un giro di spaccio, era stato bersaglio lo scorso anno di un analogo agguato dal quale però era uscito indenne, portava lo stesso nome del nonno ucciso nel 1990 in un'imboscata. Loredana colloca per la G News 24.